Sanità pubblica dalle liste d'attesa ai servizi ai cittadini, ai medici di base, temi analizzati durante un incontro organizzato dalla CGL che ha voluto mettere in luce le criticità a partire dagli investimenti da calare sulla sanità territoriale. La progressiva riduzione dei posti letto negli ospedali anche del nostro territorio non ha avuto come contraltare un importante e auspicabile potenziamento di quelli che sono i servizi territoriali, vale a dire tutta quella serie di servizi a persone fragili che pur non avendo magari bisogno di accedere poiché non in fase acuta ai servizi ospedalieri comunque necessitano di cure appropriate. Focus anche sulla carenza dei medici di medicina generale, figura nodale per indirizzare i pazienti all'interno dei servizi. Registriamo dal punto di vista regionale che vi è una carenza di circa 776 medici su tutto il territorio regionale che per quanto riguarda l'Ulso ottoberica ammonta circa 60 medici. Ecco che questa carenza diventa ancora più problematica nel momento in cui appunto il tentativo espresso da Regione Veneto è quello di valorizzare e di sviluppare la sanità territoriale. Altro aspetto evidenziato dalla CGL è quello relativo alla programmazione del che fa bisogno di professionisti della salute e della valorizzazione del loro ruolo. Problematica da inquadrare nella fotografia demografica del territorio che registra un alto indice di vecchiaia. La programmazione è insufficiente, spesso questa professione diventa anche poco appetibile per cui veramente il rischio è che non vi siano i professionisti che poi saranno chiamati a derogare anche questi nuovi servizi di sanità territoriale. Quello che noi chiediamo da molto tempo è da un lato che vi siano le risorse che servono per avere una coerenza forte tra i documenti di programmazione sanitaria e poi la loro effettiva realizzazione che per quanto ci riguarda non può che passare attraverso il potenziamento della sanità pubblica.